Benvenuti a EICMA Milano, vi voglio presentare la nuova linea con il marchio WILE ICON. È una nuova linea, una nuova famiglia di biciclette pensata per un utilizzo urbano e trekking con caratteristiche premium. Un nuovo design che abbiamo fatto integralmente noi, tutte quante motorizzate con un motore F90 5 a 48 volt. 48 volt sia per la batteria che ovviamente per il motore con il quale si riescono ad aggiungere a dei picchi del 30 per cento di salita. Queste biciclette si differenziano fondamentalmente su tre modelli, un modello NEN urbano, un modello trekking ed un modello unisex urbano. Tutte quante dotate di un bel display ampio LCD retroilluminato con possibilità di ricarica del proprio smartphone tramite una porta USB direttamente dal manubrio della bicicletta.